Sembra che improvvisamente Salerno sia diventata una città insicura. L'episodio della baby gang a Piazza della Libertà, reso pubblico dal presidente della giunta regionale ad una settimana dall'accaduto, è grave ma non avrebbe contorni di altri fatti accaduti in passato nel capoluogo e cheppure hanno visto convolti dei minorenni. Non sarebbe configurabile infatti in questa occasione il reato di rissa. I protagonisti sono stati tutti identificati. In questo fine settimana la stazione mobile dei Carabinieri ha presidiato Piazza della Libertà Salerno mentre altre pattuglie delle forze dell'ordine hanno svolto i consueti controlli nella zona dell'Amovide ovviamente nel resto della città. Cose già programmate ben prima che si venisse a conoscenza dell'episodio accaduto la scorsa settimana che ha visto coinvolti dei minorenni che hanno aggredito un loro coetaneo. Il tema della sicurezza è più complessivo, riguarda la videosorveglianza e le forze impegnate sul territorio soprattutto nelle ore notturne. I recenti furti o tentativi di furti avvenuti a danno di attività commerciali o istituti di credito della zona orientale di Salerno hanno riproposto il problema. Eppure il numero dei furti in abitazioni e negozi è diminuito rispetto agli anni scorsi ma la percezione dei cittadini è diversa. La domanda è come viene controllata la città capoluogo durante la notte. Il territorio è suddiviso in cinque quadranti e viene pattugliato da polizie e carabinieri, pattugliamento recentemente rinforzato con uomini del reparto, prevenzione anticrimine. Di notte invece non operano agenti di polizia municipale. Secondo fonti della stessa polizia municipale il corpo dispone di 187 unità. 85 circa hanno superato i 60 anni e verso i 67 andranno in pensione 70-80 unità. Ci sarà un concorso per assunzioni a tempo indeterminato ma con contratti part-time questo non risolverà il problema. Ad ogni turno dalle 7 a mezzanotte circa operano 4-5 pattuglie che devono occuparsi di tantissime cose. Dagli incidenti stradali all'ambulantato, alla contraffazione, alla contraffazione, TSO ed altro. Ma se di notte accade un incidente stradale sul territorio comunale, compresa la tangenziale, devono intervenire polizie o carabinieri. Insomma occorrono più agenti di polizia municipale ed occorre intensificare la videosorveglianza che in piazza della Libertà ad esempio non copre l'intera area.